Ti devi sentire Ciao bella raga Benvenuti in questo nuovo video da Ciro Allora ragazzi Oggi ho una nuova novità per voi Allora Vorrei ringraziare tutti quelli che stanno iscrivendo In questo momento sul mio canale E stanno scrivendo anche i commenti ragazzi Un po' vita Valore di più Poi c'è una che dice che Non posso parlare di diletta Dico che questa carissima fan Mia ho di diletta Se non posso portare a diletta le otta Io non posso portare a nessuno Comunque ragazzi Cominciamo così Oggi vi parlo proprio ancora di lei Eh sì ragazzi Non solo Diletta le otta È troppo bella La mamma di diletta le otta Ancora più bella Mamma mia Io ci metterei a fare l'amore Signora Vuoi venire con me? Ti porto in paradiso Allora ragazzi Lei è la mamma di diletta le otta Proprio uguale Spiccicata a lei Diciamo un pochino però C'è qualcosa In cambiamento Lei ha degli occhi belli E lei c'è un altro colore degli occhi Comunque ragazzi Cambiamo un altro argomento ragazzi Lui Ha spopolato Già Su tutti i web Anche su Se avete sentito TikTok No? Di chi sta parlando? È proprio lui Manuel Come siamo? Tutti a poste Ragazzi Questo ragazzo Ha sfondato Ha sfondato E ha sfondato Su TikTok Su Youtube Su tantissimi Social Comunque ragazzi Lui Questo ragazzo Prende la La sua La sua pecora In poche parole Lo chiama Manuel Non solo Questo ragazzi Ha fatto anche una canzone Su Manuel Andatela a sentire Lui è stato protagonista Di tutti questi Eventi È stato a Napoli È stato con Ghedanino E diciamo Ha spavorato Ha fatto Un boom In poche parole Su TikTok Se lo conoscete Non lo so Se l'avete visto Comunque ragazzi Cambiamo argomento Carissime fan Donne Bambine Adulte E lui È stato ancora Appizzicato Di nuovo Di chi sto parlando Gianni Amà Ragazzi Ancora È stato paparazzato Con un'altra Donna Allora regia Mi mandi la foto? Grazie Eccolo qua ragazzi Questa donna È stata paparazzata Con Gianni Amà Dicono Forse È una nuova Fiamma Gian Diletta Demente Francesca Quanti nomi Abbiamo sentito? C'è Basta Calmati un po' Lo so Sei giovane Ancora Però Sei bellissimo Ragazzo Questo è ovvio Anche l'attore Anche io farei L'attore Però non c'ho il fisico Come ce l'hai tu Però se mi volessi Prendere una parte Io vengo Gian Allora ragazzi Allora ragazzi Queste sono le novità Che porto con voi Io vi ringrazio sempre Da Ciro Mancini Ci vediamo al prossimo video Io vi saluto Ciao bella raga Mi Ciao bella Ciao bella Grazie a tutti.